La mensa scolastica partirà. Il Tar di Catania ha rigettato la sospensiva, la quale era stata chiesta da un'impresa che si era classificata seconda al bando per aggiudicarsi il servizio mensa per l'anno scolastico 2015-2016. Le buone notizie per i genitori e per gli alunni non tornano ad arrivare. Il Tar con l'ordinanza emessa ieri ha dato ragione al Comune di Ragusa. Il ricorso presentato dalle altre ditte non è stato accolto e quindi il Comune può procedere nei tempi previsti alla stipula del contratto con la ditta Gran Menù con Seda Pozzallo. Un percorso travagliato in cui i criteri fissati non erano molto semplici. Un team di esperti ha individuato chi garantiva un più alto livello qualitativo del cibo e un maggiore rispetto di tutte le regole normative in materia alimentare e nutrizionale. La ditta vincitrice potrà soffluire per i primi 40 giorni di 13 camioncini per la distribuzione. Dopo questo periodo la preparazione e il confezionamento dei piatti avverrà, così come è stato concordato con il Comune, direttamente a Ragusa, con un notevole risparmio sul trasporto e l'impiego di meno mezzi per consegnare i cibi in breve tempo.